Ciao a tutti, chiedo a chiunque stia ascoltando questo mio video messaggio di condividerlo il più possibile affinché abbia più probabilità di arrivare agli occhi e alle orecchie delle persone ai quali ha destinato. Mi rivolgo al governo, al ministro dello sport, al CONI, agli enti ai quali noi società sportive siamo affiliati e a tutti quelli che hanno avuto voce in capitolo nel prendere la decisione della chiusura totale delle nostre attività. Ripeto, totale e non parziale, perché noi siamo totalmente chiusi ormai da 15 mesi. Parlo di 15 mesi perché anche l'anno scorso, dopo il primo lockdown, ci hanno fatto riaprire da giugno a settembre, come sarà anche quest'anno e sono mesi che tutti sappiamo nei centri sportivi si tenta di tirare avanti con le scorte dell'inverno. Quindi siamo attualmente chiusi dall'8 marzo del 2020. Mi rivolgo a loro per chiedergli una risposta, una risposta che dopo un anno credo abbiamo diritto di ricevere. Come si dice, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Io di risposte ai miei utenti ne ho dovute dare tante in questi mesi, ma tutte le domande che ho fatto io non ho mai ricevuto risposta. Perciò sono qui oggi a chiedere una cosa semplicissima per voi che siete abituati a prendere decisioni e a imporre il rispetto di queste. Come potremo rispondere noi ai nostri tesserati al primo di giugno quando riapriranno le porte dei nostri centri fitness, delle nostre piscine? Parlo al nome anche di tanti altri miei colleghi perché chi più chi meno siamo tutti in questa situazione. Quindi come potremo rispondere noi ai nostri utenti quando dovremo dire loro che non riusciremo a risarcire molto probabilmente il 100% della quota da loro pagata l'anno scorso per usufruire dei servizi dei nostri centri perché è utopia pensare che dopo 15 mesi di chiusura si possano riaprire le porte delle nostre strutture e far finta che nulla sia successo. È impensabile. Mi metto dalla parte dei nostri utenti perché anch'io sono un utente, perché anch'io ho sottoscritto dei contratti. Ho contratti con un gestore telefonico, ho i contratti con un gestore dell'energia, della corrente, del gas, dell'acqua. Ho un contratto con il mio affittuario, ho un contratto con il leasing, con la banca per i post, ho un contratto con le assicurazioni che noi continuiamo a pagare nel caso qualcuno si faccia male dentro la nostra struttura. Non so chi si possa far male in questo momento dentro la nostra struttura, ma nonostante ciò continuiamo a pagare. E io ho chiesto a queste persone perché devo pagare un servizio che io non sto utilizzando in quest'anno e non ho avuto risposte. O meglio, la risposta ce l'ho avuta ogni 30 del mese quando aprendo il mio pc della mia struttura mi trovo come risposta alla fattura di questi servizi. Quindi quando il mio cliente mi chiederà ma dove sono finiti i soldi del mio abbonamento? Io te l'ho pagato, non l'ho usufruito, ma io te l'ho pagato. Beh, dove sono finiti? Io mi faccio questa domanda perché anch'io non riesco a capire perché ogni 30 del mese ho dagli 8 agli 11 mila euro di spese fisse che devo pagare per servizi che non sto utilizzando, che sono completamente sospesi. Pago un affitto di un gestionale annuo che non ho mai usato, pago appunto il leasing dei macchinari che non sto usando, telefono e tutto quello che ho detto prima. Quindi la risposta è ecco dove sono finiti i soldi vostri cari utenti e sono già finiti perché abbiamo spese e non abbiamo incassi. Quindi la domanda che vi faccio è molto semplice. Voi ci avete costretti a una chiusura senza interpellarci, senza venire a controllare la situazione all'interno dei nostri centri, quindi senza verificare che effettivamente c'era rischio di pericolo qua dentro, più di tantissime altre attività che nonostante tutto sono sempre state aperte. Quindi nessuno sottovaluta la situazione in cui stiamo vivendo, ma quanto era più rischiosa la mia attività rispetto a tante altre? Perché siamo sempre i primi e gli ultimi a riaprire? E soprattutto perché continuiamo a sentire al telegiornale parlare di ristori, ristori, ristori? Dove sono finiti i ristori? Perché nella mia azienda i ristori non sono mai arrivate, risposte non ho mai avute e come ho detto prima rispondere è cortesia e le uniche risposte che mi sono arrivate sono state non hai i requisiti, la tua attività non ha i requisiti per accedere ai ristori. Allora mi chiedo, io sono un centro sportivo, divulgo l'attività fisica, divulgo benessere e quali sono i requisiti che dovevo avere per ricevere i ristori? Perché non li ho ricevuti? Quindi io ho dovuto sobbarcarmi di spese, ho dovuto e dovrò sobbarcarmi di lamentele da parte dei nostri utenti, giustamente perché ripeto, anch'io sono utente e anche a me dà fastidio pagare per una cosa che non ho sfruttato. Ma ripeto, è impensabile sperare che quando si riaprano le porte sia tutto normale, torni tutto come prima, perché siamo stati chiusi senza una giusta causa o una giustificazione e senza aiuti ci siamo messi a norma. Noi le norme le abbiamo sempre rispettate, sempre, bastava entrare dalla porta e venirci a controllare. Ci siamo sempre messi in regola con i decreti, con le misure di sicurezza e nonostante ciò, spendendo soldi per mettersi in regola, siamo stati comunque chiusi. Allora io mi chiedo perché siamo costretti adesso a risarcire un utente quando noi in primis utenti di tante altre cose, oltre a non essere mai stati risarciti, non abbiamo mai avuto una risposta. Non saprei come altro spiegare questa situazione. quindi io esigo delle risposte perché fra 15 giorni le risposte le dovrò dare io ai miei clienti. Mi rivolgo anche a tutti i cittadini, a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Vi abbiamo chiesto di scendere in piazza a protestare, a manifestare per noi e per tantissime altre categorie. Vi abbiamo chiesto di sostenerci proponendo attività, proponendo noleggi, servizi da poter darci una mano per sostentare le nostre attività e siamo stati abbandonati. Questo serviva per non trovarci ad oggi nella situazione in cui siamo, per potervi dare delle risposte positive anziché trovarci in questa situazione. Perciò noi, come tante altre strutture, non credo saremo in grado di soddisfare al 100% la richiesta dei nostri tesserati. Chiederò loro di girare le proteste, le loro lamentelle allo Stato perché lo Stato ci ha chiuso. Io volevo lavorare. L'utente voleva venire in palestra e usufruire del servizio. Io volevo lavorare. Io sono stata attenta a far rispettare le regole, mi sono messa a norma, io avevo il diritto di lavorare. Ci avete chiusi, ci dovete aiutare, altrimenti i miei clienti dovranno chiedere a voi il risarcimento perché io con cosa vi posso risarcire? Con cosa li posso risarcire? Quindi questo video è una protesta ed è un anticipo a tutti quelli che mi chiedono continuamente che fine faranno i nostri abbonamenti. Non vi so rispondere ad oggi perché la speranza è l'ultima a morire e ho ancora 15 giorni di tempo per sperare che lo Stato si accorga di noi palestre, di noi piscine e che ci dia una mano perché se loro aiuteranno noi, noi riusciremo ad aiutare voi. Viceversa ci saranno delle conseguenze e le conseguenze ci saranno perché o saranno sulle spalle nostre dei titolari o saranno sulle spalle degli utenti o a metà e metà. Di certo non saranno nelle spalle dello Stato perché finora lo Stato per noi non si è messo niente sulle spalle. Quindi io mi auguro che a qualcuno arrivi questo messaggio, mi auguro che a qualcuno arrivi questa nostra richiesta di aiuto o di ricevere un po' di comprensione quando sarà il momento. Grazie a tutti, ciao e buona giornata!